Avete mai sentito parlare di color fobia? Si tratta di una vera e propria paura dei clown e di tutto ciò che li riguarda. Essa può manifestarsi come un semplice disagio o come un profondo terrore. Ma che cosa c'è alla base di questa fobia? Ebbene, sembra che ci sia il bisogno umano che tutti abbiamo di riconoscere le emozioni e di chi ci sta di fronte. E' cosa che il trucco dei clown rende impossibile e questo scaturisce in chi vi si trova davanti un'intensa angoscia. Io mi ricordo quando avevo visto It, quando ero molto piccolo, la versione quella vecchia, avevo assolutamente un terrore dei clown e penso che questo terrore forse in qualche modo deriva proprio da questa fobia che non sapevo di avere prima di fare ricerche magari per questo video. Ma in realtà c'è un'altra ragione comunque se questa fobia è divenuta con il tempo tanto comune nelle persone. Infatti, la storia ha visto spesso dei casi di c***er clown, di gente con un alter ego buffo e colorato che andavano a seminare il panico. E su questa storia sono stati fatti i vari film, serie tv, leggende mitropolitane. Immagino che ormai abbiate capito che caso ho intenzione di presentarvi oggi. Ovviamente parleremo di John Wayne Gacy e Pogo, suo alter ego, il pagliaccio assalino, una storia molto celebre che molto probabilmente avete già sentito. Ma vediamo di vedere nel dettaglio i risvolti folli della vita di questo serial. John Gacy nacque nel 1942 a Chicago e non ebbe un'infanzia tranquilla. Fattore che ormai sappiamo essere molto comune nelle vite dei serial killer. Viveva con il padre, un uomo alcolizzato e terribilmente violento che era solito ad alzare le mani anche per le ragioni più semplici. E la madre, donna succobe e all'antica a sua volta. I genitori non tolleravano l'idea che il ragazzino potesse crescere con delle deviazioni, come le definirà Gacy, per tutta la sua vita. E delle sfaccettature, tra virgolette, femminili. Desiderava un figlio che fosse mascolino, virile, un uomo tutto d'un pezzo. E fecero di questo desiderio il centro della vita di Gacy, che non poteva permettersi il minimo pianto, la minima fragilità. Rientrare nei canoni della società del tempo fu un vero e proprio problema per John Wayne, che si accorse molto presto d'essere omosessuale. E infatti il ragazzo seppellì la sua vera identità per tutta la vita. Non solamente per non dare una delusione al padre, ma soprattutto per la paura delle conseguenze che scoprirsi avrebbe riportato. Proprio per questo terrore psicologico, non solo non rivelò mai la sua sessualità, ma da bambino ebbe pure paura di raccontare al padre, che all'età di 7 anni era stato caricato su un furgone da un amico di famiglia, che l'aveva molestato palpeggiandolo. Un altro trauma che vale la pena di raccontare fu che a 11 anni John cadde battendo violentemente la testa, ma nessuno si accorse del fatto che quella caduta gli avrebbe procurato un vero e proprio trauma cranico, i quali segni vennero notati solo diversi anni dopo, all'età di 16 anni, durante una visita di routine. Questo ci fa capire anche quanto poco il ragazzo fosse stato seguito dalla sua famiglia. John non era un bambino esuberante, si mostrava piuttosto tranquillo, ma nonostante questo bantava una buona cerchia di amici, che ogni tanto lo prendevano in giro per la sua obesità infantile, ma dopo tutto gli volevano bene. Cresciuto quanto bastava, abbandonò la casa del padre, ormai saturo e stanco delle mille violenze fisiche subite. Andò in Nevada, dove cominciò a lavorare come impresario di pompe funebri. Lì imparò a lavare i corpi, e apprese di aver probabilmente un feticcio per i cadaveri. Infatti passava molto tempo con essi, e capitava che, rimasto solo con loro, non si limitasse a prepararli per il funerale, ma li carezzasse, li studiasse e osservasse. Così la sua mente iniziò a formulare con più insistenza, pensieri malsani, che già da tempo gli avevano affollato la testa. Tornò a Chicago dopo un paio d'anni, e si sposò con Marilyn Myers, una donna benestante, con la quale ebbe addirittura due figli. Ci fu un grosso cambiamento nella sua personalità. Da bambino introverso e piuttosto silenzioso, Gacy, allontanato da casa, si era trasformato in un uomo dalla faccia pulita, dalla parlantina brillante, capace di vendere qualsiasi cosa, e infatti si cimentò proprio nelle vendite di scarpe, diventando un vero uomo di successo, invidiato da molti. Si trasferì successivamente in Iowa, per lavorare negli uffici della catena alimentare di un KFC. Infatti, il successo con la vendita di scarpe, era stato tanto convincente, che il suocero aveva deciso di lasciargli le redini della sua impresa. Tutto andava parecchio bene in quegli anni, Gacy aveva una famiglia perfetta, il lavoro perfetto e tanti soldi. Si unì addirittura alla Camera Junior degli Stati Uniti, un'associazione dedita a formare i nuovi leader politici della comunità. Insomma, una confraternita che puntava a formare veri e propri uomini di successo. Molta della gente che viveva attorno a Gacy notava delle stranezze in lui. Alcuni dei suoi colleghi dissero che avevano trovato strano il fatto che interagisse solo con colleghi uomini, e che spesso si lasciava sfuggire battute a sfondo sessuale, che poi giustificava come semplici scherzi. La sua vita, come vi dicevo, sembrava veramente la perfezione, il sogno che ogni americano medio potesse desiderare. Ma non tutto è come sembra. Infatti, sotto quell'apparente perfezione, l'uomo, nella sua intimità, iniziò ben presto a lasciare andare la maschera da bravo cittadino e accedere alla sua vera natura, a quella natura che il padre aveva tanto condannato. Iniziò ad avere incontri con altri uomini, incontri frequenti, ma ciò non gli bastò. Nel 1967, Gacy si accorse di volere un corpo giovane. Il tirocinio presso quell'associazione di pompe funebri gli aveva lasciato un ricordo, un velo di curiosità, la voglia di riprovare ad avere un uomo totalmente abbandonato a lui e pronto ad ogni cosa. La sua prima aggressione avvenne ai danni di un ragazzo, Donald Voorhees Jr., figlio di uno dei membri della Camera Junior degli USA. Gacy invitò il ragazzo a casa sua con la scusa di mostrargli della portografia, materiale raro all'epoca. Poi l'obbligò ad avere un rapporto orale minacciandola addirittura di morte in caso avesse rivelato qualcosa a qualcuno. Ma Donald, uscito da quella casa, racconta tutto ai genitori e Gacy si trovò la polizia all'uscio di casa. Provò inizialmente a spiegare che tutto l'avvenuto era stato consenziente, che Donald era d'accordo, ma il processo non andò bene. Dunque Gacy passò all'azione assumendo un sicario per uccidere il ragazzo e fa sparire le sue tracce. Fortunatamente questi fallì e Gacy fu condannato non solo per violenza sessuale, ma anche per tentato miocchio. Ma della condanna di 10 anni, Gacy scontò solamente pochi mesi. Come mai? La parlantina, come già detto, l'uomo era ottimo nelle farse, nella recitazione, e riuscì a sembrare innocente. Da subito però gli venne negato il contatto con moglie e figli. Tornò quindi a Chicago come scapolo e iniziò a lavorare in un'impresa idile, della quale successivamente sarebbe divenuto addirittura il proprietario. Lì condusse la sua doppia vita. Di giorno un uomo d'affari, di notte un carnefice violento. L'uomo si sposò nuovamente e tra il 1974 e il 1975, Gacy creò Pogo, il pagliaccio a salino, un alter ego creato per partecipare alle feste di bambini come volontario. Un modo per mostrarsi pulito e gentile agli occhi della società, che così non avrebbe sospettato nulla in caso avesse fatto un passo falso. Animava le feste di compleanno non solo di chi poteva permettersi di pagarlo, ma anche di famiglie povere. Avere accesso a delle feste di ragazzi gli servì successivamente anche per farsi un'idea delle possibili vittime sulle quali avrebbe potuto mettere le sue grinfie. Ma quando avvenne il primo uccidio di Gacy? Beh, nel 1972, qualche mese prima dell'arrivo di Pongo, il clown, Gacy vide un ragazzo, un turista, che stava visitando Chicago, Timothy Jack McCoy, e gli offrì di fargli da guida e di dargli addirittura vito alloggio in casa sua. È una cosa che oggi può sembrarci strana, ma negli anni 70 non era così raro per i giovani intraprendere viaggi lunghi usando l'autostop e alloggiando a casa di persone disponibili. E inoltre, Timothy si lasciò convincere dalla faccia rubiconda di Gacy, che sembrava tanto un uomo tranquillo. Quindi si concedette il tour e riposò pure in una delle camere che John aveva allestito solo per lui, separata dalla sua. Il racconto, però, si infittisce. Gacy disse che la mattina successiva si era ritrovato davanti il ragazzo con in mano un coltello, ma fu la prima cosa che vide dopo aver aperto gli occhi e senza ragionare balzò in piedi e iniziò a lottare con Timothy che spaventato a sua volta reagì. Gacy ebbe però la meglio e accoglò il ragazzo. Scoprì poi ad anno fatto scendendo in cucina che il ragazzo gli aveva cucinato la colazione ed era salito al piano di sopra con il coltello in mano per chiamarlo. Non so, a me sembra una dinamica molto strana, però andiamo avanti. C'è da dire che Gacy ammise tuttavia che il primo a fondo con la lama della carne del ragazzo gli procurò un intenso piacere sessuale e durante l'interrogatorio mostrò una cicatrice sul braccio che a detta sua gli era stata proprio procurata da quella collutazione. Da quel preciso momento decise che uccidere i giovani ragazzi poteva diventare un'abitudine. Lui fu il primo ad essere seppellito nella casa Gacy il primo di moltissimi 32 in tutto. Ma come mai la moglie non si accorse di nulla? Beh, quello che dovete sapere è che la loro relazione non era una relazione comune. I due spesso per via del lavoro vivevano separati. Certo, lei sospettava che ci fosse qualcosa di strano sospettava fosse omosessuale ma tollerava la situazione fino a che è rimasta nascosta. Quando però beccò delle riviste omoerotiche chiese spiegazioni al marito che aprendosi per la prima volta si disse bisessuale. La donna non accettò la risposta e la realtà e decise dunque di interrompere il matrimonio lasciandolo solo in quell'enorme casa solo e libero di fare ogni cosa. Gacy iniziò così ad invitare diversi giovani dei quali abusava drogattoli e torturandoli e quando questi perdevano i sensi li risvegliava per perpetuare le brutalità. Solo quando i ragazzi arrivavano allo stremo Gacy li faceva fuori e questa cosa durò per tutti gli anni 70 un disegno che vide quella residenza trasformatasi in un vero e proprio cimitero. Tutte le vittime di Gacy avevano un'età compresa tra i 14 e i 21 anni. Nel 1978 tutto finì con il rapimento della sua ultima vittima Robert Pist di 15 anni lavorava in una farmacia e riuscì a convincerlo a raggiungere casa sua grazie a un annuncio sul giornale cercava un ragazzo forte che lo aiutasse con i lavori della sua fattoria Robert che cercava di mettere via qualche risparmio accettò quel lavoro di buon grado Gacy Gacy aggredì il ragazzo già al colloquio conoscitivo lo tenne segregato per qualche giorno e gli perpetuò i soliti abusi e le solite torture prima di farlo fuori strangolandolo proprio come aveva fatto con tutti gli altri ragazzi che lo avevano preceduto quando la polizia arrivò a casa sua sulle tracce del ragazzo però Gacy non riuscì ad essere convincente nelle sue frottole come lo era stato in passato la polizia sospettò immediatamente di lui soprattutto per la puzza terribile che alleggiava in quella dimora i corpi di più di 30 persone erano in putefrazione sotto quelle fondamenta e la scusa del sistema fognario rotto non venne assolutamente presa sul serio dagli agenti ottenuto un mandato di perquisizione nella casa trovarono oggetti bizzarri come manette catene siringhe e moltissimi vestiti di taglie decisamente non adatte alla corporatura di Gacy arrivarono presto alla conclusione che il semi interrato di quel piccolo range doveva aver visto molte cose strane le forze dell'ordine decidero di tenere John Wayne Gacy sotto controllo facendolo seguire senza sosta da una pattuglia tanto che lo stesso uomo se ne lamentò dicendo che si sentiva oppresso e privato non solo della sua privacy ma pure dei suoi delitti di cittadino americano la frenesia dovuta agli svariati omicitti aveva fatto in modo che Gacy sviluppasse una vera e propria dipendenza verso il male che compiva e nonostante sapesse benissimo d'essere sotto controllo decisi di approcciare per l'ennesima volta un ragazzo incontrato per strada inizialmente gli domandò se volesse seguirlo poi provò ad offrirli della marijuana e infine lo aggredì la polizia intervenne immediatamente fermando l'aggressione di Gacy ubriaco fradicio iniziò a sproloquiare raccontando dettagli recondi degli uccidi che aveva commesso gesto di cui si pentì poche ore più tardi infatti la cosa veramente bizzarra è che pentendosi delle cose dette cercò di accampare scuse dicendo che tutti gli uccidi che come abbiamo già detto furono più di 30 erano avvenuti tutti per errore semplici incidenti di percorso durante asfissie erotiche nessuno chiaramente si beve questa storia e Gacy venne condannato alla pena capitale per iniezione letale che si tenne il 10 maggio del 1994 giorno in cui peraltro a molti chilometri di distanza Jeffrey Dahmer di cui abbiamo già parlato veniva battezzato Gacy chiese come ultimo pasto del pollo fritto dei gamberetti patatine e un chilo di fragole le sue ultime parole furono togliere la vita a me non compenserà la perdita di quelle degli altri lo stato mi sta uccidendo baciatemi il culo spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un mi piace e commentare qui sotto alla prossima